Piccola novità, tutti i loghi statici del mio canale verranno sostituiti con questo logo animato. Ovviamente i loghi già animati non subiranno modifiche. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nell'angolo high tech con questo nuovo unboxing di un oggettino che tutto sommato è high tech. Direi di iniziare subito andando a prendere... ma... e cos'è? Sto cazzo! È una busta, lo vedi? Va bene, darò un'occhiata. Una busta proveniente dalla Vodafone soltanto per Dark Luxie, per come vedete. Sì, no, l'ho dovuto coprire comunque. Andiamo ad aprirla? Sì, penso che la Vodafone ne ha mandate 80.000. Continua a rompersi! Ah, non ti vuoi aprire? Adesso chiamo io che ti farà aprire. Oh, no! Ci voleva tanto? Oh! Ehm, no. Eh, no, costa davvero tanto per adesso, voglio aspettare. Ah, però! Ah! Un occhialumi a 520 a 149 euro. Mmm, potrebbe interessarmi. Andiamo! Ed eccoci tornati finalmente con il nostro ZAAC Nokia Lumia 520. Piccola premessa che voglio fare immediatamente. Ho acquistato questo telefono. Primo, secondo, terzo e quarto motivo è la promozione. Quinto motivo perché volevo provare un Windows Phone. Sesto motivo perché volevo fare un unboxing. E settimo motivo ricomincia dall'1. Quindi non pensate che l'abbia acquistato per capire quanto sono potenti i Lumia, anche perché se avessi voluto capire quello sarei andato magari sul 925 che costa 8 milioni di euro. E quindi, non avendo le tasche piene, e sinceramente sui Lumia volevo andarci un po' cauto, inizio con questo. Poi si vedrà, magari capace che mi piace così tanto, che acquisterò tra poco anche il 925, poi acquisto la Nokia e faccio il mio nuovo Dark Phone Mobile. E voi direte, finalmente unboxing? No ragazzi, non posso ancora unboxare. Perché su Facebook ieri ho messo delle foto, ci sono stati commenti a destra, manca eccetera, così tanti che ho detto, quasi quasi ve li metto anche su YouTube nel video. E non posso dire una cosa e farne un'altra, se vi dico che lo faccio, lo faccio. E quindi ho stampato addirittura i vostri commenti qua, e ora andiamo a vedere. Iniziamo subito da signor Gaetano che dice, Dark, non ci potrei credere ma proprio oggi sì, l'ho passato a Vodafone. Sono passato a Vodafone? Ah, meno male, sono contento, e ci ho anche azzeccato, vedi? Io l'ho preso proprio in un negozio Vodafone, appunto. Vediamo anche i messaggi che sono comparsi direttamente nel mini album che crea Facebook quando mettete due foto. Cominciamo col signor Riccardo che dice, Nokia Lumia 925. No, mi spiace. Io giustamente ho risposto che non ci sarebbe stato uno sconto su quel modello, magari. Poi, Riccardo dice, allora il 725. Se non erro, no, non c'è i soldi, sono un pezzetto, magari, magari. Riccardo fammi un 100 euro di ricarica sulle poste pay. Poi, Enrico mi scrive, Nokia Lumia 520, bastard. Eh beh, sì, 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 ma beccato subito. Poi, Joshua mi dice, aspettiamo l'unboxing allora, Dark. Comunque sì, è un 520, ormai mi hanno puzzato e ora mi stanno dando le mazzate. Poi, Christian mi dice, Nokia Lumia 720, non c'ho i soldi! No, non c'era la promo, quindi la vedo dura, la vedo dura. Poi, abbiamo anche Molto Cattivo che direttamente si è lanciato con È un vibratore, touchscreen, ne ho due uguali. Perché ne hai due uguali? Un salutone a Cattivo. Poi, Lorenzo, invece, mi dice, Nokia Lumia 720, oppure Nokia Lumia 800. Peccato, non c'ho i soldi! No, no, niente, neanche quello. E poi abbiamo Vincenzo che dice, io dico che se me lo regali lo accetto volentieri, Dark e Terminenzio. Io vorrei salutare Terminenzio e gli dico che sì, certo, te lo regalo. Sì, sì. No, scherzo. Comunque, no, penso non te lo regalerò. Se lo vuoi, però, te lo vendo a mille, mille, mille euro. Poi, abbiamo Filippo che dice, Megadildo... Eh, no, no, mi dispiace, non è neanche quello. Sulla pagina, invece, dove c'era proprio la foto della busta un po' aperta, che si intravedeva giusto un po' il cellulare, è venuto fuori una cosa incredibile. Ora taglio un po' la veloce, perché se no non finiamo più. Salvatore dice, Lumia! Bravo, bravo, ci hai azzeccato. Marco mi dice, no, che grande errore. Andrea che mi becca al primo colpo con 520. Sì, bravo, mi ha inculato, in pratica. Infatti, mi ha scritto, Dark, ti ho incastrato, ho indovinato. Sì! Bravo, Andrea, che hai indovinato al primo colpo. Poi, Marco mi continua a dire, beh, spero almeno che hai preso il 925. Marco, non c'ho i soldi! Capisci che non ne ho, non ne ho, sono pezzente. Poi, Andrea mi dice che, ha ha ha, diventerò famoso, magari, spero per te, ma non grazie a questo video sicuro. Farò 200 visualizzazioni se va bene. Perché non guardate i miei video? Vabbè, poi, Enrico mi fa, ma quanto lo hai pagato? E poi Andrea, di nuovo, Dark, non c'entra nulla con il cell, ma voleva sapere se la Vermiglia Game Capture andava bene. Poi, io gli ho detto di no, non il Game Capture, forse non conviene in questo momento avere un componente e basta. Poi, ad una risposta che avevo dato, che l'avevo preso per far l'unboxing, quindi, dopo l'unboxing, avrei valutato se tenerlo oppure farlo fuori. Il nostro Carmelo ci dice, farlo fuori? Sì, in realtà, sì, sì, lo ucciderò. Poi, se per Carmelo si fa la risata, Andrea mi fa, sì, Dark, però intendo il Game Capture, di nuovo la domanda di prima, lasciamo stare lì, di fatti glielo sconsiglio. E Andrea, un altro, Andrea mi dice, ma scalzone di un Dark, da ciò che si intravede, direi un Nokia 520, eh, grazie, ormai l'han detto tutti. Comunque, grande, c'è, azzeccato anche tu. Un altro, Andrea, ma qual è che Andrea siete? Siete tutti Andrea? Vi chiamate tutti Andrea? Andrea, ora vi chiamo Andrea, ragazzi, dico ciao Andrea e benvenuti in un nuovo unboxing. Siete tutti Andrea? Vabbè, Andrea mi, un altro, mi dice, Lumia 925? No. Poi, Alin mi dice, Lumia 920? E, l'ultimo, Andrea, invece, direttamente si lancia con una spada ad umani, dicendo, ma come fa a costare 140 euro un 920? Sveglia! Eh, sì, più o meno l'idea era quella. E poi, Alin continua a dire, non sapevo il prezzo. Se è 140 euro, allora è per forza il 520. Ragazzi, io ve l'avevo promesso e per Dark le promesse sono un debito. Se dico che metterò sul video i vostri commenti, i vostri commenti finiranno sul video. Adesso penso che può bastare, visto che sono 8 minuti che parlo solo dei vostri commenti. Iniziamo l'unboxing. Oh, come suona bene. Ok, iniziamo con l'unboxing. Prendiamo il nostro bel zag taglierozzo che ora è sfocato. Guarda che bello, sfocato a fuoco, sfocato a fuoco. Vabbè, comunque andiamo ad aprirlo. Sì, questo è proprio il Lumia. Ora andiamo a vedere il resto della confezione. Garanzia di conformità Vodafone. Wow. Togliamo questo cartoncino. Pensavo fosse di plastica, invece è solo un simpatico cartoncino che andremo a eliminare così. Poi abbiamo il libretto. La batteria, che non vuole uscire. Eccola qua. Sembrano le batterie di una volta che si trovavano nei cellularini. Bah, poi andiamo ad aprire anche questa parte, questo scomparto segreto. E ci troviamo. Questo cavo micro USB, USB, veramente cortissimo. Vabbè. Il caricabatterie classico con la micro USB. E le auricolari. Queste sono proprio scarne scarne. Direi che il resto è noia. Via, la scatola se ne va. Ok, iniziamo con questa cosa orribile, ragazzi, mi dispiace ma ve lo devo dire subito. Questa è una cosa orribile. No, non questo che ho in mano. Quello. Adesso vorrei che qualcuno mi spiegasse come si fa ad avere un cavo del genere. Ditemelo perché non riesco a capire. 20 centimetri di cavo. Cazzo. Più piccolo non c'era? Non so, io l'avrei fatto tipo lo spinotto USB qua e quello del cellulare qui almeno, boh, era più vicino. Passiamo al caricabatterie, nonché trasformatore, alimentatore, come al solito, chiamiamolo come vogliamo. Questo se ne deve andare. Ok. Ah, tutti elastici questa volta, niente fascette per legarci i pomidoro. Male, male. Almeno su questo si sono rifatti a un cavo di un metro e cinquanta, calcolando dall'inizio a qui più o meno via. Almeno questo. E poi abbiamo la batteria, andiamo a toglierla dal cellophane. È una BL5J, vabbè, una tipologia di batterie Nokia, da 1430 mAh. Spero che vada abbastanza bene, ho visto batterie peggiori in telefoni migliori, quindi in teoria. Bene, adesso andiamo a vedere le auricolari. Delle auricolari, immagino, veramente scronde. Non sto neanche a liberarle, perché comunque, vabbè, sono una lunghezza standard. Eccole qua, due classiche auricolari, niente di particolare. E il blocco del microfono, con la scritta Nokia. Non ha nemmeno il tasto per rispondere alla chiamata, da quello che vedo. Quindi, vabbè, dovremmo fare tutto da telefono per utilizzare queste. Niente di fuori dal mondo, ma ce lo aspettavamo. E visto che ero rimasto sconcertato dalla lunghezza di questo cavo USB, micro USB, sono andato a vedere su internet, e ho notato che le versioni non europee, soprattutto io parlo per me, non italiana, ma immagino che questo problema lo abbiamo in tutta Europa, hanno un altro cavo, hanno un cavo molto più lungo, che sia USB che micro USB. Perché? Perché l'altro cavo va a finire nel caricabatterie, che è un caricabatterie USB. Quindi hanno quel cavo lunghissimo della madonna, che va a finire nel caricabatterie USB, e va a finire dall'altra parte al cellulare. Noi, togliendolo dal caricabatterie, lo potremmo inserire nel computer e avere un cavo veramente molto lungo. Da noi questa cosa non esiste, perché non si sa perché. Noi odiamo i cavi lunghi, gli europei odiano i cavi lunghi, basta. Vabbè, comunque qua chiudo la parentesi. Finalmente scartiamo questo bel terminaluccio. Via la cartaccia che ci fa cagare. Il bello è che i tasti sono fusi, diciamo, nella cornice, ed è molto carino da vedere. Queste sono le mie prime impressioni. Il lato sinistro è completamente pulito. Il lato destro invece ospita un po' di cosucce. Andiamo a vedere quali. Abbiamo il regolatore di volume, più e meno, che verrà però anche utilizzato nello zoom della fotocamera. Abbiamo il tasto per l'accensione, spegnimento e stand by. E il pulsante per scattare le nostre foto. Ricordo che un pulsante ha doppia corsa. Premendo fino al primo scatto metterà fuoco e premendo di più e raggiungendo il secondo farà la foto. Nella parte superiore abbiamo jack da 3,5 mm e nella parte inferiore, dicevo, abbiamo l'entrata micro usb. Dietro abbiamo la scritta Nokia, che si vede anche bene sul bianco. La nostra fotocamera e l'autoparlante. Ok, avvicinandoci un attimo, per parlare un attimino di qualcosa che abbiamo appena visto, vorrei parlare della fotocamera. È una fotocamera da 5 megapixel, senza lenti card Zeiss purtroppo. La risoluzione invece delle foto è 2592x1936. Può registrare dei video fino a 720p a 30 fotogrammi al secondo. Adesso dovrei cercare di togliere la cover posteriore, perché ricordo che è una cover in policarbonato, mai dire plastica, ci mancherebbe policarbonato. Oh cazzo. Au, mi fa male, bastardo. Ti ho anche acquistato, pezzo di... Oh, così ce l'ho fatta. Come vedete, senza quella super cover, non ci sono neanche i propri tasti, ci sono ma sono lì dentro, sono i micro contatti. Perché il tasto vero e proprio rimane attaccato alla cover, come vedete ha questo spessore, che andrà poi a premere sul micro contatto per far sì che il tasto funzioni. Ok, andiamo a prendere una micro SIM e una micro SD e andiamo a inserirle. Ok, andiamo ad inserirla in questa maniera, una maniera un po' particolare, e poi inseriamo anche la micro SD, la nostra batteria che andrà messa così, e possiamo anche chiudere il tutto. Mi dispiace metterci le dita sopra così pesantemente, ma non so mai se si è chiuso bene o no. Metti la cera, togli la cera. Dai la cera, togli la cera. Affan... Facciamo partire questo benedetto cellulare. Svariati i minuti dopo, stiamo aspettando che sia B, per adesso la scritta Nokia, cioè, la vediamo insomma. Va più che bene, ma vorremmo anche vedere altro. E quindi? Ciao, sono il tuo Windows Phone. Oh, che culo! Bene, dai, emergenza o partiamo da qui? Partiamo da qui. Bene, direi che italiano può andare più che bene. Quindi avanti. Condizioni di utilizzo Windows Phone? Eh, vabbè, tanto. Configura il tuo telefono. Consigliata, personalizzata tutta la vita. Vabbè, sì, queste cose, ok. Ci chiede in quale paese ti trovi. Beh, direi Italia, dai. Forse. Se non sbaglio. Insomma, credo di sì. Poi, in quale fuso orario sei? Beh, ovvio. Che giorno è oggi? Ma cos'è? Un quiz. Oggi è il 4 luglio del 2013. Ok, così ci siamo. Va bene. Che ora è? Oh, ma chiedila a qualcuno che passa, cosa vuoi da me? Sono le 11.56. Anzi, diciamo 58 perché è tempo che avrò finito. Ok. Invia la mia posizione a Microsoft quando il telefono è acceso. Perché? Sincronizza la tua vita. E via. Un account Microsoft consente di sincronizzare foto, contatti, musica, documenti e altro con il PC o Xbox. Bla bla bla. Va bene, accedi. E ora dovrò inserire i miei dati e quindi questa parte ve la taglio. Insomma, dopo aver inserito quello e ha cercato anche di connettersi ma non ce l'ha fatta perché ancora non mi ha fatto scegliere la rete, mi dice sto configurando il telefono, devo installare ancora alcune app, ci vorrà poco. Va bene, vai tranquillo, ma voglio dire, ma ci mancherebbe. Dai però, ho rilevato la scheda SD, bravo. Io inizierei a dire subito una cosa velocemente. Allora, numero uno. Se voi lo avete perfettamente davanti, si vede da Dio come vedete. Una volta però che magari lo tenete in mano e siete leggermente sbilenchi, si vedrà più un Kaiser. O comunque poco e niente, anche se le icone sono grandi, però è un po' una rottura. Ok? Tolto la questione schermo, che purtroppo è così, ma ci sta comunque una fascia bassa e non possiamo neanche lamentarci di questo, andiamo a vedere qualcos'altro, che ne so, Vodafone It Chiamate. Qua abbiamo tutte le nostre chiamate, che ora non ce ne manco mezza perché non ne ho fatte. I tasti non si illuminano, questi qua sotto rimangono così, però vabbè, una volta fatta l'abitudine, penso che non sarà un gran problema. Poi andiamo su Messaggi. Ci hanno subito beccati, sia la Vodafone che vuole sempre soldi, soldi. E Windows Phone che dice, andiamo a vedere il messaggio. Ciao! Vuoi conoscere qualche trucco e vedere un video su come ottenere il meglio dal tuo telefono? Vai lì! Questo messaggio è gratuito. E beh, grazie. Meno male, voglio dire. Poi qua invece abbiamo le email, immagino. Perfetto, che ora non sto neanche lì ad andare a vederle. Abbiamo l'Explorer. Wow! Personalizza e consigliate. Personalizza e consigliate. Non c'ho voglia neanche di perdere tempo, tanto ora non mi potrò connettere perché non mi sono ancora connesso alla rete Wi-Fi di casa. Come vedete il telefono era abbastanza grande, soprattutto confrontato per esempio ad un iPhone. Alla grandezza più o meno, forse anche più grande, sì, più grande. Ma lo schermo poi alla fine non è poi così gigantesco. Più o meno siamo ai livelli di quelli di un iPhone. Via! Abbiamo comunque delle dimensioni abbastanza generose a parer mio perché io non sono molto da cellulari giganteschi. È un 119 mm di altezza, 64 di larghezza ed è spesso 9,9 mm. Come si può vedere ovviamente monta Windows Phone 8 e come processore un Qualcomm Snapdragon S4 Dual Core. Da 1000 MHz! Un giga! In più ha una memoria interna di 8 giga. Che comunque come avete visto è espandibile con le SD. Abbiamo questo schermo LCD IPS da 4 pollici. Ha una risoluzione di 480 x 800 pixel e 16 milioni di colori. Ovviamente un capacitivo multi-touch. Il dito non scorre tanto bene. Si vede che non è abbastanza unto, devo sputarci. Ovviamente andrà configurato, queste cose le potrò portare nell'altro menu eccetera. Però ho trovato le impostazioni e sono già abbastanza felice. Toni e suonerie, sentiamo un po' l'audio. Il volume aumenta in questa maniera. Voi vi vedete 26, 27, 28, 29 e 30. Il 30 è il massimo. Carino, dai come un autoradio. Alla faccia, si 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 sente molto bene. Si basta, basta, basta! Ok mi fido! Ok. L'audio dei Nokia è sempre buono, mi piace. Bello alto e sparato. Nokia Message. Ma a noi quello che ci interessa ora è la rete, il Wi-Fi. Oh, eccolo qua, Wi-Fi. L'ha trovato! Andiamo a impostarlo. Ok, ho fatto già delle piccole riprese con la fotocamera, che è questa qui. Direi che è veramente molto molto carina. Non me l'aspettavo anche nei video, adesso non posso farvi capire come viaggia, ma vi assicuro che viaggia molto molto bene. Per fare video basterà premere qua e potremmo decidere se va bene così, oppure ripassare alla modalità fotocamera, oppure aggiungere magari dei filtri. Per i video penso che esista la stessa cosa, non so che filtri. Ah, gli stessi! Boh, va bene! Ok, novità, app, preferite, abbiamo tutto. Andiamo su rullino, che è quello che ci interessa di più. Queste sono le foto che ho fatte e anche i video. Veramente tanta roba. Proviamo a scuotere un po', a vedere lo stabilizzatore. E avviciniamoci per vedere se mette a fuoco. Sì, lo fa, lo fa anche molto bene, velocemente. Vediamo fin quanto riesce a mettere a fuoco. Ah, complimenti! Niente male, dai, molto carina. Niente di eccezionale, ma funziona. Direi che ci siamo proprio. Abbiamo lo studio creativo, dove potremmo mettere dei filtri alle nostre foto, e questa è una cosa molto carina. Ma, visto che ancora non l'ho fatto, vorrei andare a provare Foto Smart. Ok, ha fatto ben quattro foto dello stesso oggetto, fossimo stati fuori, potevamo fare molte più modifiche. Comunque, come vedete, sono foto identiche in pratica. Sono stato abbastanza fermo. Si potranno anche attivare il cancello oggetti, il modifica volti. In questo caso, né uno né l'altro, perché non c'era niente in movimento, quindi era un'immagine statica. Con sempre lo stesso sfondo e sempre lo stesso soggetto. Ma, nel caso siamo fuori, magari in una partita, dove ci sono persone che si muovono, sarebbe molto carino. Potremmo cancellare solo chi vogliamo noi. E quello è veramente uno spettacolo. Poi, altra cosa, il modifica volti, idem, che potremmo fare delle piccole fotomontaggi molto carini, ed è già preinstallato. Quindi è anche una cosa molto simpatica. Altra cosa che voglio farvi vedere. Abbiamo musica e più video. Ci porta alla nostra dashboard. Sì, perché se noi facciamo così, come vedete, oh oh oh, Xbox Music Pass. E quindi, sono contento, perché comunque sembra di navigare sulla nostra Xbox, mi fa piacere. App Highlight. Benvenuto, app in primo piano, in modo migliore, bla 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 bla. Ok, queste qua sono le app che ci vogliono smollare e spendere mille mille milioni di euro. E' abbastanza reattivo per il processore che hai, per quello che dovrebbe fare, direi che lo fa veramente molto molto bene. Abbiamo anche le mappe, ci dà il benvenuto, bisogna avviare il tutto. Ci sono rimasto perché ha fissato alla velocità della luce. Poi abbiamo giochi e ci porta sempre, come al solito, sulla nostra Dash. Dash. Oh, guardate chi c'è, c'è il mio Mino. Dove stai andando? Ciccio! Ops, ho spaccato tutto. Ah, se lo scuoto, spacca tutto. Oh, cazzo, mi ha spaccato lo schermo. Potremmo fare delle modifiche al nostro avatar, girarlo come vogliamo noi. Ovviamente abbiamo i contatti, in questo caso mi è andato a chiapare i contatti della mail e quindi mi ha portato tutti qua. Poi dovrò vedere come fare per cambiare un po' le cose. Andiamo su invece email, vere e proprie. Eh, che te pareva? GameStop subito, zac, l'emailazza. Ma non ti voglio per adesso. Il nostro store delle app, quindi potremmo chiamarlo app store. No, comunque lo store. E abbiamo le Vodafone app, che sono quelle orribili, immagino. Sì, ecco appunto, mai 190. Abbiamo le Nokia Collection, anche qua non penso ci sia grandi cose, però vabbè, un po' più di roba di una volta. App. Basta così. Migliori gratis, nuove ed emergenti. Andiamo su Migliori gratis. E ovviamente qui potremmo andare a trovare quelle più utilizzate nel mondo. E abbiamo, beh, Autovelox direi di sì assolutamente, poi è gratis. E vabbè, Shazam. Poi abbiamo Facebook che assolutamente si installerà. Basterà fare così, installa. Consenti o annulla? Consenti. Installiamo questa applicazione, insomma, cribio. Ci vorrà un attimino, nel senso non è particolarmente veloce lo store. Su. 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 Ce la possiamo fare, eh? Tra qualche ora sarà. Oh, là. Condividi? Direi di no. Ho installato un'app, cosa devo condividere? Poi assolutamente WhatsApp per tutta la vita, forever, sempre. Consenti tutto quello che ti pare. Scusate se ogni tanto sbaglio a schiacciare, ma ho il qua davanti e ho il cavalletto che mi blocca. Quindi io vedo attraverso il monitor e non è la stessa cosa, eh? Attraverso lo schermino della fotocamera non è proprio la stessa cosa. Comunque, mentre lui sta cercando di installarmi anche WhatsApp, che ci sta mettendo anche di meno di quanto ci ha messo Facebook, non so quanto che era grande Facebook. Andiamo a vedere se c'è altra roba che ci può interessare, ma per adesso penso che abbiamo anche Skype, Nokia Musica, D-Max, fantastico, D-Max tutta la vita. Niente, abbiamo veramente anche Google, registratore, tutto il calcio, non è per me, ma vabbè, magari a qualcuno interessa e abbiamo veramente l'impossibile. Ci saranno un sacco di applicazioni, non i livelli di iOS o di Android, quindi di iPhone e i vari Samsung piuttosto che LG o qualsiasi cellulare Android, ma comunque anche il Windows Phone ha le sue applicazioni poche, ma magari comunque funzionali, adesso bisognerà provarlo un attimino. Il cellulare è sempre molto veloce e reattivo, questo non gli si può dire proprio niente, anzi è molto più reattivo di molti altri telefoni con processori molto più potenti. Volendo possiamo anche andare su Nokia Musica, ecco qua, avremo la mia musica, Mix Radio, Crea un Mix, Offline, Negozio, Concerti, Impostazioni. Andando sulla mia musica invece non troveremo una mazza perché ancora non ho messo niente, ma Mix Radio, possiamo andare a scegliere tipo italiana, per esempio, e andare a selezionarci una radio che a noi ci piace e ce l'ascolteremo. Ah, vediamo in chiamata come stiamo messi. Sì, 190, oh, proviamo il viva voce. Per la telefonia mobile e internet con... Va benissimo, sentiamo all'orecchio. Non ero più abituato a determinati suoni, veramente molto molto carini. Niente da ridire su questo telefono, soprattutto nella chiamata mi piace. Ormai mi stavo abituando all'iPhone che ha un suono un po' differente. E i Nokia hanno sempre il loro bel suono cristallino e limpido, mi piace. Proviamo ad andare nell'Explorer e andiamo a fare una navigazione rapida, che ne so, verso un sito qualsiasi, per esempio YouTube. Beh, dai, non malissimo alla fine. Sta ancora caricando, ma ho visto di peggio. Anche zoomando un bel po' di volte vedo che è sempre abbastanza fluido, va bene, dai, insomma. E adesso ci sta dicendo anche a presto, perché? Perché si è scaricata la batteria. Ma ormai quello che c'era da dire, l'abbiamo detto, penso che non serve altro che dirvi che questo cellulare ha un costo di, in teoria, 200 euro, ma non penso proprio. Con la promozione Vodafone lo si porta via a 149 euro e ha già più senso. Secondo me è un buon muletto, nel caso non vogliamo portarci dietro il nostro super smartphone, super power, magari in qualche situazione, questo farà il caso nostro. Potremmo portarlo un po' dove vogliamo, non tende a rigarsi anche grazie a questa bella cover di policarbonato, che poi è plastica. E niente, a me piace, tutto sommato direi che questo telefono va bene un po' per tutti. È un po' un telefono jolly che possiamo regalarlo alla nonna, alla mamma, alla zia, al papà, a chi volete voi, insomma, è molto molto carino. Oltretutto ha queste icone belle e grandi che faciliteranno anche l'utilizzo alle persone che magari non si trovano particolarmente bene con Android o piuttosto che con iOS. Ed ecco quello che c'era nella confezione. Se poi avete delle domande da farmi, vi pregherei di farle come messaggio privato, così che io vi possa vedere e rispondere. Perché se le mettete tutte nei commenti, a volte arrivano troppi commenti, io non vedo più chi mi sta rispondendo, anche perché YouTube mi manda un'email sì e due no. E poi non riesco a rispondervi e sembra che sono cattivo, brutto e puzzo. In realtà va bene che sono cattivo, brutto e puzzo, ma io vi rispondo, almeno quello sì. Se avete delle domande particolari, messaggio privato e via. Se no commentate, 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 sì! E un bel mi piace è sempre gradito. Lo so che preferivate magari un Lumia 925 da 2 milioni di euro, però purtroppo si fa quel che si può. E quindi un salutone grande a tutti quanti e alla prossima! Ciao belli! Mio, 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 tutto mio! Ciao!